il 17 del me e 6 di aprile del 1944 sette persone armate di fucile avevano camminato lungo tratto con parola pietosa e assai gentile come diceva l'un diceva l'altro nella notte non aveva riposato io di dagli alloggio allora fui pregato visto di questi tutto l'andamento due mie figlie insieme agli altri i due bambini di uscire di casa ha fatto appena in tempo e non li videro i barbari assassini ma un'altra squadra di rastrellamento che gli era lì da noi molto vicini vide i miei figli stavano a scappare e su di essi si misero a sparare una di queste la vi di cascare credevo che l'avesse ero colpita il cuore in seno mi sentì gelare ma per fortuna la rimase invita venne da me si mise a raccontare senza le altre da casa era partita in quel mentre a casa e si è sentito i miei cari urlar restai avvilito da questo estremo grido io fui colpito perché da loro non potevo andare caddi a terra svenuto ed avvilito e non so quanto stiedi a ripigliare senza più sensi come aver dormito e come fosse stato un mio sognà dei miei non vedo e sento più segnali vedo le case in fiamme e tutte uguali